Benvenuti su Longevity Now, Longevity Now FL. Io sono come sempre Luigi Fontana, professore e direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic in Stade di Sydney. Oggi vorrei parlarvi di disfunzione erettile, sì, disfunzione erettile, un prezioso indicatore precoce di malattia aterosclerotica, come vi spiegherò. Perché? Perché in questi giorni ho letto un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista di Journal of American College Cardiology, intitolato Erectile Dysfunction and Coronary Heart Disease, Unfortunate Bedfellows, ossia disfunzione erettile e malattia coronarica sfortunati compagni di letto. Ma cos'è la disfunzione erettile? Beh, tecnicamente è una condizione clinica caratterizzata dalla persistente incapacità di raggiungere e mantenere un'erezione sufficiente per un rapporto sessuale soddisfacente. Sebbene comunemente è considerata una condizione benigna, e come vi spiegherò, potrebbe non esserlo, per gli uomini che ne soffrono è comunque un problema molto, molto importante, sia dal punto di vista psicologico, chiaramente, chiaro, che pratico, con ripercussioni immediate sia per l'uomo che per il partner. Ma quante persone ne soffrono? Beh, approssimativamente circa un uomo su due ne soffre in qualche misura. Pensate che secondo i dati del Massachusetts Male Aging Study, circa il 50%, sì, il 50% degli uomini di età compresa tra i 40 e i 70 anni, ripeto, tra i 40 e i 70 anni, presenta almeno una forma lieve di disfunzione erettile, mentre il 10% è affetto da una forma grave, una forma completa, non riescono ad avere un'erezione, praticamente. Del resto, questa fotografia è confermata dal crescente utilizzo di farmaci come il Viagra tra gli uomini di mezza età, sin dalla sua introduzione nel 1998. Dunque, la disfunzione erettile sicuramente può avere cause diverse, mentre l'ansia, la depressione e altri fattori psicologici, così come l'uso di alcuni farmaci, i beta-bloccanti, l'alcol, sono noti per contribuire a questa condizione, pochi sono consapevoli che l'incapacità di avere un'erezione potrebbe essere un segnale precoce di disfunzione endoteliale e malattia cardiovascolare. Esatto, di disfunzione endoteliale, che è il primo movens della malattia cardiovascolare, e di malattia coronarica. Se ci pensate dal punto di vista concettuale, esistono chiari paralleli tra la disfunzione endoteliale e la parziale occlusione delle arterie coronariche e di quelle peniene, del pene. Se ci pensate bene, il maggior flusso di sangue richiesto per ottenere un'erezione efficace riflette quello necessario al cuore durante un'intensa attività fisica. Cioè, se uno deve correre, deve aumentare l'afflusso di sangue ai muscoli e quindi aumenta la frequenza cardiaca, la pressione. E se una persona ha una placca aterosclerotica, nelle coronarie ha praticamente una ridotta a flusse e tipicamente risulta in quello che viene chiamata angina pectoris perché non arriva abbastanza sangue, ossigeno, nutrienti al cuore. Nel stesso modo, se uno ha delle placche aterosclerotiche nelle arterie peniene, quando appunto ha bisogno di più sangue per avere un'erezione, questo sangue non arriva e quindi appunto si ha una disfunzione erettile. In effetti questa relazione, come potete ben capire, deriva dal progressivo malfunzionamento, quello che viene chiamato disfunzione edoteliale, una ridotta produzione di ossido nitrico e progressivamente il restringimento delle piccole arterie che causa per appunto un ridotto flusso sanguigno e una capacità arteriosa limitata che da un lato porta a una debole erezione, cioè a un pene flaccido, semiflaccido, e dall'altra può manifestarsi come angina pectoris, il dolore toracico tipico dei cardiopatici. Dovete anche capire che dal punto di vista anatomico le arterie del pene hanno un diametro di soli un millimetro e quindi sono soggette a un più precoce restringimento del calibro dovuto alla placca terosclerotica con ostruzione circolatoria rispetto alle arterie coronariche che hanno un diametro di circa 3 millimetri. Infatti, i numerosi studi hanno confermato che lo sviluppo della disfunzione erettile può essere un indicatore precoce e affidabile di malattia coronarica che spesso può precedere di diversi mesi o anni la diagnosi di una patologia cardiaca, patologia coronarica. E quindi cosa possiamo fare? È essenziale comprendere che l'insufficienza arteriosa alla base della disfunzione erettile e vasculogenica e la malattia coronarica condividono una vasta gamma di fattori di rischio cardiometabolici. Queste includono sicuramente l'obesità addominale, il diabete, l'ipercolesterolemia, la dislipidemia, l'ipertensione, il fumo e tanti altri. Pensate che nel Massachusetts Male Aging Study è emerso che i fumatori presentano un rischio quasi raddoppiato di sviluppare una disfunzione erettile moderata o completa, grave. Inoltre il sovrappeso, le persone per esempio nello studio con un BMI uguale o superiore a 28, il sovrappeso è risultato essere un potente fattore di rischio indipendente sia per la disfunzione erettile che per la malattia coronarica. Inoltre l'infiammazione cronica tipica dell'eccessivo accumulo di grasso viscerale sembra svolgere anch'essa un ruolo chiave nella promozione della disfunzione arteriale che evolve sia in disfunzione erettile che in malattia coronarica. Pertanto, come ho già spiegato in altri video, adottare uno stile di vita sano che includa una dieta equilibrata, ricca di verdure, legumi, cereali integrali minimamente processati, pesce, frutta secca e povera di calorie vuote, quindi una moderata retezione calorica, insieme ad un programma di esercizio fisico regolare e naturalmente alla cessazione del fumo e evitare il consumo di alcol, è cruciale sia per avere una vita sessuale gratificante che per prevenire o gestire le malattie cardiovascolari e neurovascolari. Insomma, paradossalmente, data la tendenza di molti uomini a essere più sensibili ai problemi legati alla qualità della loro prestazione sessuale, delle loro prestazioni sessuali, rispetto alla loro salute cardiometabolica e al rischio di sviluppare un infarto miocardico o un ictus cerebrale o diventare dementi, è cruciale che, per questo motivo, è cruciale che i medici avviano una discussione aperta sulla salute erettile e sessuale e sulla salute di coppia, sì, di coppia, perché non è solo un problema dell'uomo, è un problema anche della donna se c'è una disfunzione erettile. Sorprendentemente si è scoperto che concentrarsi sull'importanza dei cambiamenti dello stile di vita per migliorare la funzione erettile ha un impatto significativo spesso maggiore rispetto alle discussioni sulla longevità o sulla prevenzione di malattie cardiovascolari e cancro e demenza. Paradossalmente, è incredibile, no? È importante quindi riconoscere che comunicare gli effetti dannosi dell'obesità addominale, di diete malsane e del fumo sul benessere sessuale può essere uno stimolo straordinario per motivare gli uomini a smettere di fumare e a modificare le proprie abitudini alimentari riducendo il consumo di carne ricche di acidi grassi, salature che aumentano il colesterolo, di sale, di tanti altri cibi raffinati e processati che aumentano il rischio di obesità addominale, infiammazione cronica, diabete, ipertensione, tutti fattori che aumentano il rischio di disfunzione arteriale e di sviluppare di placche aterosclerotiche non solo nelle coronarie nelle carotidi ma anche nelle piccolissime arterie che portano il sangue al vostro organo sessuale e quindi questo approccio consente di affrontare le preoccupazioni immediate degli uomini riguardo alla loro funzione sessuale, alla loro prestazione sessuale mentre contemporaneamente incoraggia questi uomini ad adottare comportamenti più salutari per prevenire problemi futuri di salute. In sostanza per finire cari colleghi avviare una discussione sulla salute rettile può essere una leva potente per promuovere il benessere generale di uomini e delle donne affrontando le loro preoccupazioni immediate e incoraggiandoli a prendersi cura della propria salute totale a lungo termine. E con questo è tutto per oggi come sempre vi saluto questo è Longevity Now Longevity Now Eiffel il canale della salute e della longevità e del benessere a 360 gradi e la vita sessuale fa parte del benessere delle persone una vita sessuale sana e robusta fa parte del benessere è uno degli elementi importanti io come sempre sono Luigi Fontana medico specialista professore di medicina direttore scientifico del Charles Perkins Center RPA Clinic del programma su longevità Health for Life dell'Università di Sydney e un clinico accademico nel dipartimento di endocrinologia del Royal Prince Alfred Hospital di Sydney e con questo è tutto vi saluto alla prossima grazie a tutti